Manca personale nella questura di Ferrara e quello che c'è soprattutto in servizio nelle volanti, in media, ultra quarantenne. Tutti i problemi che da un mese i sindacati della Polizia di Stato, tutte le sei sigle sindacali, SILP, SAP, UGL, COISP, SILP, CGL e SIAP, vanno denunciando prima all'opinione pubblica perché essere a repentaglio alla sicurezza della comunità ferrarese, poi al prefetto Gabrielli in una visita recente a Ferrara. Oggi denunciano lo Stato delle cose e anche alla politica, agli onorevoli Alessandro Bratti e Paola Boldrini, alla senatrice Maria Teresa Bertuzzi. L'incontro si è tenuto in municipio ed è stata l'occasione per i sindacati per dire anche alle rappresentanze politiche che in città servono uomini per la spalla in Serie A, per il prossimo Museo Ebraico del MEIS, ma soprattutto servono uomini per tornare a fare sicurezza in città. Se c'è il grosso problema del personale da un lato, denuncia Stefano Parziale del SILP, ma ha parlato a nome di tutte le sigle sindacali, dall'altro c'è però anche quello che spesso gli agenti vedono il vanificarsi del loro lavoro. Parziale dunque chiede alla politica che si facciano azioni per avere una pena certa di fronte a reati certi. Se al problema di organico poi si aggiunge il fatto che le nostre azioni spesso vedono vanificato il nostro lavoro, poiché quando prendiamo gli autori di determinati reati vengono immediatamente rilasciati o vengono semplicemente sanzionati, ecco che la gente quando ci vede non si rende conto alla fine del lavoro che facciamo, quindi mortificante per noi e non dà delle risposte per quello che riguarda la percezione di sicurezza dei cittadini. Servono dunque maggiori risorse umane ma anche nuovi strumenti, afferma Parziale. L'educazione è fondamentale poiché se si forma una cultura civica si ha un senso di certi comportamenti, perché poi quando si arriva alla trasgressione delle norme per alcuni non c'è alcun tipo di efficacia, soprattutto per le persone che sono abituate a delinquere. Quindi noi puntiamo molto sulla formazione, per puntare sulla formazione bisogna avere una polizia di prossimità, una polizia che vada nelle scuole, per quello serve del personale. Dopodiché noi puntiamo anche ad avere una strumentazione che sia idonea a riuscire a fermare le persone senza arrivare allo scontro fisico. Tutte proposte ascoltate con attenzione dai parlamentari del PD e che ora chiedono i sindacati. È necessario che diventino azioni concrete anche per la questura e la sicurezza della città. Siamo consapevoli che le difficoltà continueranno, però il sostegno che ci hanno dato i parlamentari appare indispensabile.